cari amici di vox italia tv siamo sempre con voi un nuovo approfondimento con un nuovo e gradito ospite che comunque un volto noto per tutti quelli che ci seguono con una certa assidità è tornato da noi franco fracassi ciao franco buonasera a tutti quanti ecco non abbiamo fatto in tempo a finire di commentare il tuo ultimo lavoro protocollo contagio che tra l'altro ha avuto un grande successo una nostra intervista ha fatto numeri molto importanti che già pronto il tuo nuovo lavoro prego la regia di mandare in sovraimpressione la copertina eccolo qui quarto reich mi pare che abbastanza chiara già dal titolo la tesi chi sono questi nuovi nazisti che hanno preso il potere globale franco allora non sono sono nazisti non sono né nuovi né vecchi quello che io cerco di raccontare nel libro racconto una lunga storia mi piace raccontare storie come un protocollo contagio racconto una lunga storia che parte 76 anni fa in 1944 e finisce oggi e racconto di come i nazisti i fascisti al qua una volta resisi conto della sconfitta si fossero organizzati per far sopravvivere gli ideali per far sopravvivere per far sopravvivere gli ideali del nazismo e del fascismo in altri luoghi non aveva importanza la germania aveva perso l'italia aveva perso ma si poteva fare altrove e quindi hanno semplicemente trovato hanno avuto la fortuna di trovare una sponda in quelli che dovevano essere i loro nemici ovvero gli stati uniti america che in realtà le avevano aiutati io parlo gli stati uniti in realtà è un gruppo di finanzieri di grandi multinazionali di banche ma anche dei servizi segreti al reparto militare e così via del dipartimento di stato americano che li avevano aiutati a diventare a arrivare al potere che li avevano aiutati a diventare quello che erano diventati erano perfino sostenuti durante la guerra che è una cosa assurda perché erano loro nemici e dopodiché ho detto beh noi vogliamo far sopravvivere il terzo Reich vogliamo qualcosa di nuovo vogliamo il quarto Reich si diventi realtà e dall'altra parte ho trovato degli ascoltatori uno in particolare che è quello che poi sarebbe diventato il capo della CIA nel 1950 il Allen Dallas è stato il più famoso più importante più invasivo capo della CIA che ci sia mai stato e sono riusciti grazie a questo personaggio e grazie a tutto questo apparato che li proteggeva in qualche modo a fuggire a organizzarsi una sorta di vera e propria internazionale nera che ha preso il nome di Odessa e poi nel corso degli anni piano piano sono passati gli anni loro sono diventati vecchi ma ne sono arrivati i nuovi come avviene per tutte quante le cose si sono evolute si sono semplicemente adattate al periodo storico adattata al luogo Odessa o il quarto Reich è un'organizzazione che ha tentacoli in tutto il mondo tutto il mondo che ha avuto che ha influito sulle vite nostre i nostri padri e i nostri nonni pesantemente attraverso colpi di stato assassini stragi squadroni della morte ma in tantissimi modi si è intrecciata con Gladio Gladio era sostanzialmente una loro costola e soprattutto è stato il braccio armato di quello che poi sarebbe diventato il movimento neoliberista la religione neoliberista è stato il proprio braccio armato del neoliberismo tu citavi Allen Dallas un personaggio molto controverso molto potente in alcuni libri recenti anche di Fasanella si delinea questa figura anche i suoi epigoni in particolare sarebbe uno di quei personaggi che diciamo teneva sotto controllo anche le mafie italiane ti risulta Franco? Sì lui teneva sotto controllo tante cose lui aveva un solo nemico il comunismo e in tutte le sue forme in tutti i paesi in cui poteva presentarsi o quello che anche lui sospettava fosse comunismo poteva anche essere semplicemente un'organizzazione sindacale moderata però per lui erano tutti comunisti e al di fuori di questo lui si alleava con chiunque purché combattessero il comunismo in particolare lui era anche nazista cioè Dallas era un nazista non è che sto facendo tante lucubrazioni teorie varie lui era proprio nazista le sue idee erano idee del nazismo uno i suoi migliori amici negli anni venti gli anni trenta gli anni quaranta erano i massimi dirigenti del terzo Reich e quindi lui semplicemente ha portato avanti per tutta la vita sempre le stesse battaglie e allearsi con la mafia faceva comodo sempre in funzione dell'anticomunismo noi italiani ne sappiamo qualcosa dell'alleanza tra americani e mafia perché sono se pensiamo lo sbarco in sicilia se pensiamo a tutto quello che è accaduto in sicilia nei nella seconda metà degli anni quaranta il bandito giuliano eccetera eccetera queste sono sono creature di Dallas questi personaggi senti franco sì no lo sbarco in sicilia è chiaro fu agevolato da l'agli luciano che personaggio diciamo importante della malavita americana e italo americana torniamo però all'oggi dallas era l'avvocato di l'agli luciano allen dallas era l'avvocato di l'agli luciano ecco va bene non mi stupisce insomma la notizia che mi dai perché insomma venne venne agevolato non poco lui nella sua carriera insomma usciva spesso di prigione senza un vero motivo senti franco veniamo all'oggi tu dici questo mondo così insomma distopico dove viviamo oggi è il risultato del dominio di una internazionale nera però la narrazione che è passata la narrazione prevalente esattamente il contrario cioè ci dicono che oggi il mondo è stato di fatto cinesizzato che con la scusa della pandemia c'è un controllo pervasivo nelle vite di tutti noi che il modello imperante che rappresenta il futuro è quello insomma cinese coreano attuato poi in europa da uomini cresciuti uomini e donne cresciuti nella stasi come angela merkel insomma l'immagine della contemporaneità è esattamente il contrario di quella che proponi tu ci dicono siamo dentro una 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 costruzione comunista tardo comunista non lo so a me viene un po da sorridere la cosa perché probabilmente chi dice questo conosce molto poco la storia al di là dell'attualità allora non è che il mondo di oggi è frutto del dominio dell'internazionale nera internazionale nera è uno dei tanti tasselli che hanno caratterizzato tutto il mondo degli ultimi 70 75 anni diciamo dalla fine guerra oggi è stato il braccio armato di coloro che hanno più o meno imposto prima il la guerra fredda e poi il neoliberismo il l'internazionale nera è diciamo un elemento cardine di tutto quello che è accaduto in tutta l'america latina di molte cose che sono accadute negli stati uniti stragi mi azzardo vado un po oltre per esempio il internazionale nera che è ricchissima perché è ricchissima non perché si sono pregati soldi ebrei queste cose qui no è ricchissima perché è connessa con il capitale delle grandi multinazionali delle grandi banche delle grandi società finanziarie e ha dei banchieri proprio dei banchieri che posseggono delle banche il banchiere di riferimento dell'internazionale nera è colui che ha gestito il denaro dell'11 settembre che ha finanziato l'11 settembre quindi tanto per fare un esempio come si chiama franco chi è questo banchiere ahmed uber è un uno svizzero che si chiama ahmed perché uno svizzero convertito all'islam costui aveva due 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 punti di riferimento culturali che esplicitava molto chiaramente nella sua casa io sono stato a casa sua e quando aprivi la porta c'erano c'era un muro di fronte alla porta d'entrata con due giganteschi due giganteschi ritratti di hitler e di osama bin laden un accanto all'altro ed erano i suoi due punti di riferimento insomma tanto per per dare un esempio e costruiva una banca in italia la sua banca a un certo punto l'italia quindi l'internazionale nera ha è stata pervasiva in tutto il periodo della guerra fredda in italia in francia in in belgio in germania in olanda in in tantissimi paesi del dell'occidente attraverso le stragi attraverso il terrorismo attraverso i colpi di stato come c'è stato in grecia il tutta la le guerre post coloniali africane e una volta che caduto il muro di berlino ha preso in qualche modo possesso dell'europa dell'est non la russia ma gli altri paesi sì allora io racconto nel libro il libro si apre con una per me inconsueta testimonianza personale c'è il racconto di un di una mia esperienza di vita nel primo capitolo di quando arrivai in ucraina e fu arrestato appena messi piede misi piede in all'aeroporto di kiev sostanzialmente e racconto questo e ovviamente spiegando anche le motivazioni perché sono stato arrestato che cosa è successo eccetera eccetera e poi l'ultimo capitolo il libro si chiude con quello che accadde in ucraina nel 2013 2014 e poi negli anni a seguire quello che io definisco un vero e proprio colpo di stato e spiego con dovizia di testimonianze documentazioni testimoni anche esclusivi che sono riusciti a trovare in gioco il mondo come è stato organizzato quel colpo di stato e come questo come odessa come questa internazionale nera abbia avuto un ruolo di primissimo piano in questo golpe stiamo parlando di un paese europeo e stiamo parlando di sei anni fa senti franco lo vuoi spiegare anche a noi che cosa ti è successo in ucraina perché magari non tutti quelli che ci seguono ti seguono sanno perfettamente che cosa è accaduto detto così sembra quasi un film di verdone sia troppo forte no ma la va giusto per strammatizzare perché sai già il fatto che sei andato lì e t'hanno preso in custodia non è una notizia diciamo molto allegra se poi facciamo pure la faccia triste no nel senso mi fa ricordare questa scena troppo forte di quello che racconta della rodesia perdone comunque è la in ucraina in sostanza io sono stato durante tutto l'autunno del 2013 e l'inverno del 2014 ho scritto tantissimi articoli e anche diversi in chiese su quello che su quello che stava accadendo prima per le strade di Kiev e poi a Odessa dove c'è stata una strage la più sanguinosa strage dopo la seconda guerra mondiale a parte quella di Srebrenica sul suolo europeo e poi la successiva guerra fatto sta che nel il 2 maggio del 2015 il sindaco di Odessa ha deciso di celebrare in qualche modo la strage che era avvenuta esattamente un anno prima spiego di cosa si tratta perché purtroppo sui medi italiani non se ne è quasi fatto cenno allora il 2 maggio del 2014 le bande naziste sostanzialmente perché c'erano la svastica quindi si chiamano bande naziste criminalità locale e polizia ucraina hanno preso d'assalto letteralmente d'assalto ci sono filmati di queste cose hanno preso d'assalto la casa dei sindacati di Odessa sono riusciti a entrare hanno torturato le persone hanno stuprato le donne e poi hanno dato fuoco alla casa facendo bruciare vive tutte le tutti gli diciamo gli occupanti di questo palazzo sono morte centinaia di persone chi non è morto prima è morto arso vivo dopo allora l'anno successivo notizia ovviamente ignorata dai media occidentali prevalentemente quelli italiani tutti l'anno successivo appunto il sindaco decide di fare di celebrare questo evento ovviamente perché un evento drammatico del genere ovviamente va celebrato in qualche modo va ricordato e in piazza aveva deciso di invitare far parlare un giornalista straniero che ha detto a loro aveva trattato più approfonditamente meglio l'argomento il tema e invitarono me fu scelto io in gioco il mondo come rappresentante della stampa mondiale che si era occupata della strage di Odessa mi invitarono col biglietto pagato tutto quanto io salì sul normale aereo all'italia diretto a kiev una volta sbarcato e consegnai il passaporto e il poliziotto del gabbiottino mi disse dopo aver guardato il computer mi segua e mi ritrovai dentro una dentro una cella in realtà era una stranissima cella sembrava un acquario perché era tutta trasparente con intorno militari di ogni sorta con i mitrai eccetera eccetera dentro c'erano oltre me c'era un po di prostitute qualche trafficante di droga insomma le solite cose che si trovano nelle celle sembra una di quelle celle che si vedono nei film americani no dove sbattono qualcuno in cella che è già piena di gente ecco e ho passato lì sono riuscito ad avvertire ovviamente l'italia del mio arresto e nelle ore successive sono stato prima portato nella stanza dei servizi segreti ucraini lì all'aeroporto dove mi hanno chiaramente detto che io ero colpevole di un reato gravissimo ovvero ero nemico del popolo del popolo ucraino il mio il mio reato era essere nemico del popolo ucraino francamente un reato di questi bizzarri che si di solito sono reati tipici da corea del nord più che da da paese insomma civilizzato è dovuto intervenire il nostro ministero degli esteri l'italia ha dovuto fare pressione sull'ucraina minacciando il diciamo l'italia ha detto se voi arrestato non liberate un giornalista perché è stato arrestato senza nessun motivo l'ucraina si potrà scordare di entrare di che verrà solo presa in considerazione la domanda di entrata nell'unione europea a quel punto il ministro è stato costretto a rilasciarmi però ovviamente è stata un'avventura molto rocambolesca insomma io nel capitolo racconto tutte le cose mi sono accadute nel frangente ha avuto mai paura franco che non ti che ti tenessero lì che mi tenessero lì va bene non ho paura che mi tenessero lì ho avuto paura dopo nel senso che a un certo punto mi hanno liberato in piena notte quando l'aeroporto era tutto chiuso era buio quindi ha aggiunto sto soldato apre la porta della cella mi dice adesso lei è libero e mi dice di incamminarmi verso l'uscita l'aeroporto di Kiev come tutti gli aeroporti non è un aeroporto piccolo io stavo a un'estremità dell'aeroporto per arrivare all'uscita sono voluti molti molti minuti di corridoi androni scale mobili spente c'era tutto il buio voi immaginate tipo i film dell'orrore insomma questa cosa che io faccio il buio cosciente del fatto che se mi visto la situazione e visto la situazione dell'ucraina in quel momento lì io mi aspettavo che da un momento all'altro uscisse una persona dal buio con un coltello e mi pugnalasse insomma che era la cosa più più semplice di tutto insomma mi lasciavano lì nessuno si accorgeva di nulla e mi ritrovavano la mattina dopo invece per fortuna questo non è caduto ma per dire il clima che si sta vivendo il console italiano e il responsabile dell'economia all'ambasciata il responsabile dell'economia all'ambasciata è un'altra persona un altro diplomatico mi hanno preso quando io sono uscito lì dall'aeroporto mi hanno preso mi hanno portato dentro una stanza d'albergo con loro dentro la stanza siamo rimasti lì dentro questa stanza fino al giorno dopo hanno abbiamo dormito tutti e quattro nello stesso letto nel lettore la sopra perché loro dovrebbero proteggermi perché sono sicuri che volessero farmi fuori io a quel punto ero libero c'è una volta come dire una volta liberato dal dal ministero dell'interno io ero libero di circolare in ucraina però l'ambasciatore mi disse l'ucraina di oggi è uguale uguale al cile di pinochet né più né meno quindi lei faccia come gli pare lei è libero ad andare però diciamo che se si avvicina qualcuno gli tira una coltellata in mezzo alla strada nessuno l'aiuterà e probabilmente non troveranno il mai l'assassino e mi disse anche che solo quella settimana erano stati uccisi due giornalisti di cui uno non ucraino tranquillamente nel senso che questa era l'ucraina del 2015 questa era l'ucraina dominata c'era poroshenko all'epoca al potere sì questa è l'ucraina dominata da odessa esattamente questo allora io chiudo con questo perché secondo me è quello che è accaduto in ucraina è l'esempio più plastico del potere di odessa e di quello che riescono a fare non nel 1944 ma nel 2014 stiamo parlando di sono passati dall'epoca sono passati 70 anni 70 anni dopo a questa organizzazione un potere tale da riuscire a fare un golpe alle porte di di mosca non solo farlo ma far modo che questo colpe avesse successo e poi piazzare ministri dichiaratamente nazisti non si sospetta che sono un po' autoritari no ministri che hanno alcuni di loro sulla loro scrivania o dietro la bandiera del terzo reich o la foto di hitler o quello che è che hanno sempre detto che il nazismo è la loro strada maestra non so se mi spiego cioè di questo stiamo parlando senti però questo tutto quello che è avvenuto in ucraina in quegli anni e anche il risultato delle scelte politiche dell'amministrazione americana dell'epoca che chiaramente ha agevolato questo tipo di passaggio nei termini così volgari e violenti che tu hai appena descritto però non c'era più allen dallas all'epoca ma c'era barack obama e c'era il tanto amato barack obama c'era joe biden e mentre alcuni giornalisti rischiavano di prendersi una coltellata alla schiena all'aeroporto di chiev il figlio di biden si pigliava 50 mila dollari al mese da una società ucraina non si capisce bene per fare cosa sono loro i mandanti di quella situazione allora il punto è esattamente questo cioè quando dico che diciamo l'internazionale nera questo questa odessa è una sorta di braccio armato di qualcos'altro e quello che è accaduto in ucraina è esattamente la rappresentazione plastica di questo perché perché non non è in tante importante obama cioè obama è una figura secondaria in questa vicenda è importante quello che è lo la struttura del del potere negli stati uniti allora tanto per fare un esempio gli ucraini gli ucraini che sono riusciti a fuggire dall'ucraina stiamo parlando dei nazisti ucraini gente c'ha criminali di guerra ucraini che sono riusciti a fuggire dall'ucraina e alla fine della seconda guerra mondiale grazie all'aiuto del dei servizi segreti americani e del dipartimento di stato hanno creato nei negli stati uniti di avere proprio in clave ci sono delle città dove vivono solo ucraini e dove dove vivevano poi adesso la maggior parte se non tutti sono morti i criminali di guerra e dove sono cresciuti al culto di quello che era stato il movimento ultranazionalista ucraino queste persone hanno fatto carriera dentro le grandi multinazionali americane dentro il dipartimento di stato dentro i ministeri americani hanno stretto relazioni hanno fatto carriera dentro i servizi segreti hanno e sono in qualche modo connesse a quella che era appunto dessa questa internazionale nera e i servizi segreti americani e il potere finanziario e economico americano ha goduto di questi servizi e in qualche modo quando a un certo punto è crollata l'unione sovietica e si sono diciamo si sono liberate possibilità per chi apparteneva a quel mondo che non che non si prospettava nemmeno prima questa tutto questa macchina negli stati uniti si è messa in moto e ha incominciato a piano piano a fare terra bruciata bruciata la russia ovunque poteva perché ovviamente il sentimento antirusso ogni tanto si si blocca eh l'immagine franco ci senti franco per un attimo era andato via ecco mi senti che si era saltata la connessione stavi dicendo che c'è un grande sentimento antirusso prego concludi sì eh c'è un grande sentimento antirusso scusate si può interrompere un secondo eh insomma è complicato cioè nel senso che possiamo andare verso le conclusioni se vuoi se non hai più tempo vabbè allora continuo dicevo eh c'è un grande sentimento eh questo grande sentimento antirusso è stato coltivato dentro tutta quanta l'amministrazione americana e eh nel dal 92 a a oggi piano 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 ha preso ha preso potere quando nel eh eh quando nel 2004 c'è stata la rivoluzione arancione in Ucraina la moglie dell'allora presidente quello che poi divenne presidente che c'era la faccia sfregiata perché si disse che era stato avvelenato dai servizi russi cosa probabile insomma comunque aveva questa fraccia tutta quanta eh rovinata il viso rovinato sua moglie era una nazista dichiarata ed era statunitense era una moglie statunitense ed era nazista dichiarata ed era un alto dirigente del dipartimento di stato americano che diciamo collaborò in qualche modo alla costruzione di dell'allora rivoluzione e quindi alla presa di potere dell'Ucraina tutto quanto quest'apparato si è trasferito piano piano col tempo dieci anni dopo e quindi dieci anni dopo il questa macchina composta da odessa eh di di diciamo nazisti di vari paesi eh nazisti ultranazionalisti ucraini e eh apparato dello stato del dipartimento di stato e massimi dirigenti non solo politici ma anche economici e finanziari degli stati uniti sono rimessi in moto e hanno fatto una nuova rivoluzione però questa volta violenta hanno fatto un vero e proprio colpo di stato di cui hanno beneficiato in tanti allora biden semplicemente ha messo eh non so come dire eh lui non è che ha organizzato nulla perché in realtà le cose pratiche all'epoca le organizzò la sottosegretaria di stato che si chiamava Victoria Nuland che anche lei era un'antirussa convinta lei era stata capo della CIA a Mosca per tantissimo tempo ed era un una fervente anti antirussa e eh lei organizzò materialmente ma Biden in quanto vicepresidente diede la protezione politica in cambio di questo al figlio di Biden eh fu sostanzialmente regalato la il posto di amministratore delegato di una più grande società di gas del mondo senti Franco ehm quindi tu dici Biden non ha organizzato direttamente nulla lì l'ha fatto la nulla lui ha dato copertura politica però eh sappiamo che Biden ha fatto uno strano viaggio ad Odessa proprio prima che avvenisse questa strage cosa sai tu di questo aspetto? Il giorno prima del della strage Biden vola da Washington direttamente a Odessa non passando nemmeno per Kiev che cosa strana perché il vicepresidente degli Stati Uniti che va in visita in Ucraina quantomeno dovrebbe incontrare il presidente dell'Ucraina comunque insomma va direttamente a Odessa e si incontra con il ehm con il capo della polizia di Odessa e col capo delle eh della criminalità organizzata di Odessa eh questo è il giorno prima della strage il giorno dopo c'è la strage adesso si può dire quindi che Biden è un fiancheggiatore di questa internazionale nera si può fare giornalisticamente questa sintesi non lo so nel senso che non esistono non credo che Biden sia nazista nemmeno lontanamente possa essere nazista credo che Biden sia uno che approfitti delle situazioni mettiamola così e non so nemmeno io non so perché ovviamente non esistono prove che direttamente collegano quella visita il giorno prima a quello che è accaduto il giorno dopo e non so se il giorno prima lui abbia pianificato quello che poi è accaduto il giorno dopo quello che so che lui alla fine in qualche modo gli Stati Uniti hanno coperto tutta quanta questa storia l'hanno proprio coperta quindi eh diciamo che un dato tu lo ritieni certo cioè hanno dato tutti questi soldi al figlio di Biden come contropartita rispetto alla copertura politica su questi fatti questo è un dato certo sì questo è un dato certo beh non è poco è una responsabilità molto grave esattamente tu pensi che la magistratura americana arriverà a contestare ad Hunter Biden queste vicende nei termini in cui le stiamo spiegando noi o credi che diciamo il livello di corruzione lì sia tale da impedire un'analisi approfondita allora se Hunter Biden non è stato messo sotto processo durante la presidenza Trump dubito che venga messo sotto processo durante la presidenza Biden mettiamola così senti ehm quindi questo tuo lavoro facciamolo rivedere eh dove si può acquistare Franco allora il libro ancora non è terminato eh l'inchiesta è terminata ma il libro ancora non è terminato io in questo momento ho lanciato una campagna di preacquisto del libro e di finanza eh di finanziamento dell'inchiesta di cosa si tratta il preacquisto del libro è semplicemente si acquista il libro oggi poi quando il libro verrà stampato presumibilmente intorno a metà di gennaio verrà stampato ovviamente lo spedirò a casa con tanto di dedica eccetera eccetera alle persone che l'hanno preacquistato ma chi vuole anche aiutare perché tu credo che lo sappia bene insomma che il il fare il giornalista è un è un mestiere dispendioso anche appunto economico in alcuni casi come lo è un'inchiesta questa inchiesta è un'inchiesta che mi ha mi ha diciamo preso molte risorse vuole aiutare vuole che io continui a fare questo mestiere eh può oltre che acquistare il libro anche finanziare in qualche modo l'inchiesta e figurerà in questo caso anche nella quarta di copertina del libro metterò il nome delle persone che aiuteranno a finanziare anche la quarta di copertina del libro la cosa importante allora questa campagna durerà fino al 10 di gennaio l'unico modo che si apre il libro non si troverà nelle librerie non si troverà su amazon eccetera 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 si può comprare esclusivamente da me l'unico modo che si ha per preacquistare o finanziare eventualmente l'inchiesta e il libro è di scrivermi un'email la mia email è franco fracassi 1 a numero chiocciolagmail.com franco fracassi 1 chiocciolagmail.com mi scrivete un'email e io vi spiego tutto quanto spero che siate in tanti perché spero che il come siete in tanti a aiutare giustamente aggiungo io vox italia tv spero che siano in tanti anche aiutare nel mio piccolo le mie inchieste e il mio lavoro da giornalista ecco noi ci aggreghiamo perché sappiamo quanto è faticoso fare il giornalista in maniera libera senza editori senza capi redattori che magari se scrivi troppo ti mandano a fare l'inchiesta sulla raccolta dei funghi in qualche sperduta collina per cui è difficile la libertà a mantenerla però vi assicuro che una volta che si assapora non si ha nessuna voglia di non si invidiano quelli che vivono magari un'esistenza più semplice più serena però che hanno buttato il cervello all'ammasso grazie franco è stato un vero piacere averti con noi grazie a te grazie a tutti quanti bene cari amici di vox italia tv noi abbiamo sempre voglia desiderio di presentarvi i lavori intellettuali culturali partoriti dalla mente dei giornalisti migliori che riputiamo migliori nel panorama italiano quello che quelli che di fatto insomma non fanno parte di questo sistema non fanno parte del mainstream non sono soldati nelle mani di una armata che uccide il libero pensiero proprio nel momento in cui fa finta di difenderlo come sapete insomma vox italia tv si regge soltanto grazie al vostro aiuto alle vostre donazioni potete aiutarci tramite bonifico tramite paypal siamo sicuri che questo esperimento che era partito in termini amatoriali potrà resistere anche nel 2021 siamo consapevoli del fatto che non è facile proseguire senza nessuno alle spalle non abbiamo però voglia di arrenderci siamo convinti che grazie al sostegno di molta gente che ci guarda ecco nella speranza che i numeri possano crescere riusciremo a rimanere insieme a voi anche nel 2021 di sicuro noi non ci arrenderemo fino a quando sarà possibile resistere grazie alla prossima